Un lavello diverso, avete abituato ad inizio stagione a realizzare tanti gol, avete imparato anche ad essere cinici, avete avuto l'occasione sul calcio di rigore e l'avete sfruttata, che valore dai a questa vittoria, che tipo di prestazione avete fornito ieri? E' stata una vittoria importantissima perché noi venivamo da due partite non fatte all'altezza, quindi questi tre punti con l'Andrea valgono doppio perché era una nostra diretta concorrente, una buonissima squadra, purtroppo anche ieri come ha detto Aldo la partita è stata condizionata dal forte evento per noi e per l'Andrea, quindi alcune volte bisogna essere anche brutti e portare a casa i punti, piuttosto che fare il bel gioco e non portare a casa niente. Lorenzo ci togliamo subito il dente, allora ti chiedo un parere, uno sull'espulsione di Venturini per fallo da ultimo uomo, due l'episodio del rigore che ha portato poi al gol decisivo di Liurni. Allora se io devo essere sincero l'espulsione per me non c'era perché poi ho rivisto le immagini e non era chiara a casa niente da gol, però rivedendo il rigore ci poteva stare dai. Chiaro ed onesto come al solito, Herrera più El-Wazni più Burzio più Liurni più Marotta, come si gestiscono? Questo è il compito del mister, però io penso che per fare qualcosa di importante la concorrenza deve esserci, io ne so qualcosa negli ultimi due anni a Cerignola, abbiamo bisogno di tutti anche perché è un campionato strano, per me è il campionato più difficile degli ultimi anni, perché è un po' per il Covid, un po' perché ci sono tanti turni infrasettimanali, un po' tanti recuperi, quindi abbiamo bisogno di tutti, più la rosa è ampia e più ne beneficiano tutti. Ti lascio il tuo amico Aldo Losinto. Lorenzo, senti una domanda ti vorrei fare, vista la macchina da gol che avete palesato fino appunto a una settimana fa in questo campionato, non dico tanto che sia inceppato qualcosa, quanto vi hanno preso un po' più le misure gli avversari in questo senso? No, hai fatto un'analisi giustissima Aldo, perché più ci vedono e ci studiano gli avversari più prendono le misure, poi sta a noi e allo staff cercare contromisure o alternative diverse, però è normale che all'inizio magari non ci conoscevano tanto, però ora ci stanno incominciando a studiare, stanno i nostri punti deboli, ora sta a noi alternare e cambiare, però non dobbiamo perdere la nostra filosofia di gioco che ci ha portato a fare così bene. Il primato in classifica, Lorenzo, è più simbolico, è più significativo o conta a zero in questo momento? No, no, io sinceramente, almeno personalmente, non la vedo ora la classifica, perché ci sono tanti recuperi, perché siamo appena alla fine del giro in ed è andata, la classifica penso che si inizierà a vedere verso marzo-aprile, quando anche tutti i recuperi saranno fatti, poi ci sono parecchie squadre quest'anno, non è che ce ne sono due o tre, come negli scorsi anni, ci sono il Casarano, il Picerno, lo stesso Altamura che è una grande identità di gioco, penso che sia veramente un campionato difficile, puoi perdere punti con chiunque, non è come negli scorsi anni che c'è una squadra materasso, quest'anno anche noi abbiamo perso punti ad Aversa, che magari poteva essere una squadra inferiore a noi, è un campionato che non devi prendere sotto gamba, ogni partita è una storia a sé. Taranto-Lavello, Molfetta-Lavello, Lavello-Team Altamura, turno infrasettimanale mercoledì 24 febbraio, da questo trittico capiremo che cosa farà da grande questa squadra? Sì, sicuramente è un trittico molto importante, però io penso che dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alla partita di domenica a Taranto, dove incontriamo una grande squadra con un grande allenatore, finalmente riusciremo a lavorare una settimana piena e quindi pensiamo al Taranto e poi penseremo a Molfetta e Altamura, che sono due belle squadre. Grazie. Grazie.